Non ci sono vincoli di nessun tipo sia nei luoghi che ospitano l'antenna RAI sia sul bene stesso. In una lunga nota dettagliata, la sovrintendente Beni Culturali Daniela Vullo spiega quali siano state le ragioni degli atti predisposti dalla sovrintendenza e soprattutto aggiunge come l'ente abbia già dato disponibilità per riattivare le procedure per il vincolo paesaggistico che è stato annullato dall'ultima sentenza del TAR. Aggiunge la Vullo che attende risposta sul punto dall'assessorato e dal dirigente generale. Intanto è stata consegnata la relazione sull'antenna commissionata dalla sovrintendenza che riguarda la gestione, la manutenzione e i costi della stessa. Tra l'altro aggiunge come la sovrintendente che i quesiti contenuti negli atti di diffida delle associazioni ambientali WWFL Gambiente sia stata data già risposta e definisce le note formali fortemente accusatorie nei confronti della sovrintendenza stessa. Sono intervenuti anche tre ex sindaci sulla questione antenna suggerendo di organizzare una manifestazione per il mantenimento e sono Salvatore Messana, Michele Campisi e Giovanni Ruvolo. Ed infine ieri il presidente dell'Ars Gianfranco Miciche con un laggio di agenzia sollecita le amministrazioni locali al mantenimento della struttura e aggiunge che l'antenna non va smantellata perché rappresenta un simbolo per i siciliani.